Nuova proposta per Enero Escape con la stanza The Boogeyman. In questa room lo staff ha cercato di incorporare team building parte attoriale e horror assieme un'enigmistica a tratti ardua. La stanza ricalca in parte la linea dell'escape di prima generazione dove vi saranno all'interno diversi lucchetti da aprire. Avendo giocato The Boogeyman nei primi giorni di apertura, l'atmosfera, più consona un thriller, è sicuramente da perfezionare al fine di rendere l'esperienza generale maggiormente immersiva e adatta per gli appassionati della paura e del brivido. Room indicata per chi ama stanze con trame intrise di mistero e a giocatori che fanno del gioco di squadra alla loro forza.